Cari fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo. Con questa domenica inizia il primo giorno del calendario liturgico della Chiesa, iniziamo un nuovo anno liturgico. Con l'Evangelista Luca iniziamo questo cammino nella celebrazione del mistero del Signore nel tempo. Gesù si rende presente salvezza oggi con il tempo della sua grazia nel nostro tempo, nel fluire dei nostri giorni. Lo facciamo con la prima domenica di avvento. L'avvento è questo tempo forte della Chiesa in cui l'esistenza del cristiano viene collocata sotto il segno dell'attesa. Nel riferimento ad un tuplice evento questa attesa, la venuta di Gesù Cristo nella carne e nella storia, e dunque camminiamo verso la solennità del Santo Natale. La venuta di Gesù Cristo nella gloria, nel giudizio finale. E allora il nostro camminare, il nostro procedere nella vita, ecco, verso l'incontro finale con Gesù glorioso che tornerà. Albedue questi avvenimenti, ecco, devono essere vissuti in una dimensione di speranza. Le due manifestazioni di Gesù nella debolezza della carne a Betlemme e nella potenza sfolgorante nel giudizio finale sono entrambi per l'uomo, per la sua salvezza, perché è lo stesso Signore che si fa incontro all'uomo. Allora questa speranza del cristiano è un qualcosa che ha un suo spessore, perché il cristiano nel coniugare il verbo sperare non lo fa con il tono e la mentalità rasoterra di chi spera, ad esempio in una vincita al totocalcio, in una vincita in una lotteria, in una vincita in questi giochi dove si punta il denaro per vincerne ancora di più. Quella del cristiano non è neppure una speranza vaga, modesta, come quando c'è il brutto tempo e si spera che torni il bel tempo. Invece la speranza cristiana è una speranza audace, è una speranza che ha come oggetto preciso il dono che ci viene da Dio per mezzo di Gesù Cristo, quel dono che Dio ha promesso e Dio è colui che mantiene le promesse. Dunque la speranza del cristiano è una speranza che si alza al massimo di livello, ecco il cristiano è colui che non si accontenta del tiro basso ma alza il tiro delle attese del suo cuore. E il Vangelo che ascoltiamo questa domenica ci proietta verso la fine dei tempi, anche qui gli avvenimenti spettacolari, paurosi, le potenze dei cieli che saranno sconvolte, non rappresentano altro che la cornice. Il centro della scena è occupato dal figlio dell'uomo ed è verso di lui che si orienta il nostro sguardo. Allora ecco per questo dice Gesù quando cominceranno ad accadere queste cose alzatevi e levate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Il cristiano allora pure se orientato verso questa prospettiva da scena decisamente apocalittica è autorizzato a sollevare il capo, non a perdersi d'animo, non ad avere la paura. Perché? Perché per il cristiano il ritorno finale del Signore non è la fine del mondo ma è il tempo in cui avviene la liberazione. Questo atteggiamento allora di attesa fiduciosa che esorcizza la paura è certo un atteggiamento che non si improvvisa e allora quel giorno non deve piombare addosso all'improvviso e non deve stringerci come in un laccio. Per questo allora occorre vivere ogni giorno in un'attesa vigilante, lucida, consapevole, non perdendo di vista la prospettiva ultima. E insomma dobbiamo essere inseriti pienamente nella vita di qua giù ma senza smarrire il senso dell'orientamento finale. Ecco questo è il dramma della vita dell'uomo di oggi, aver perso l'orientamento, dare il senso profondo ma un senso anche sicuro, chiaro, definitivo alla propria vita. Ecco allora il pensiero dell'ultimo giorno non deve impedirci di vivere e neppure di gustare la gioia del vivere. Attendere in modo vigilante non significa fuggire dall'esistenza quotidiana, significa altresì porre attenzione a non lasciarsi cogliere impreparati o distratti. Per questo Gesù dice vegliate e pregate in ogni momento e la stessa raccomandazione che egli fece ai discepoli nel Gezzemani proprio per renderli esenti dal pericolo di rientrare nella tentazione. Ecco allora questa vita può diventare una grande tentazione nel senso che l'uomo può essere indotto a separarsi, staccarsi dal cammino che gli è stato indicato per comparire davanti al figlio dell'uomo. Allora saranno la preghiera e la vigilanza a operare il servizio dell'orientamento, la pedagogia della indispensabile lucidità di fronte alle tante seduzioni che si pongono davanti a noi per deviarci dall'orientamento che dobbiamo avere nella nostra vita. Ecco allora questo tempo lo viviamo nel tempo della chiesa tra l'incarnazione, la nascita di Gesù e la venuta finale di Gesù corre giusto il tempo della chiesa e questo non è il tempo dell'assenza perché proprio attraverso la chiesa Gesù fa sì che il cristiano abbia presente, visibile, palpabile qui e ora il suo Signore. E allora non è questa una attesa vuota, è un'attesa in cui abbiamo tanto da fare. Da un Dio giusto che mantiene le promesse deriva per il cristiano dunque il dovere della speranza. Ecco diceva il cardinale Sinens, arcivescovo di Bruxelles, che la speranza non è un sogno ma è un modo per tradurre i sogni in realtà. E allora questo sperare vuol dire fidarsi del futuro, preparandolo il futuro nella pazienza, nell'attesa. E noi con questo tempo di avvento ci prepariamo ad andare incontro a Cristo che viene. Come dobbiamo prepararci? Ecco ce lo dice la stessa parola di Dio di questa domenica. Comportatevi in modo da piacere a Dio, ci dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, lettera ai tessalonicesi. Crescite e abbondate nell'amore vicendevole e verso tutti. Ecco non dobbiamo mai fare risparmio nell'amore, economia, perché tutto quello che facciamo se non è fatto per amore e con amore non serve a nulla. Dice ancora l'Apostolo Paolo, rendete saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità. Ecco la santità è proprio il messaggio altissimo che nello stesso tempo per un cristiano diventa una realtà sempre doverosa e possibile, ricordandoci proprio Dio dal libro dei numeri, siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo. Ecco allora per questo Gesù ci dice nel Vangelo state bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Ecco attenti a non sciupare la vita perché la vita è un grande dono, troppo importante per svidirla solo nel divertimento, nella irresponsabilità, nell'evasione. e giustamente diceva un artista che l'arte di vivere consiste nel trasformare la vita in un'opera d'arte. Allora anche fra tanti segni negativi noi camminiamo continuando a sperare con una speranza fondata che è quella che ci viene dalla parola di Gesù e dalla trasmissione fedele della Chiesa che da generazioni e generazioni di fedeli ci dà la prova, quasi ci assicura che questa è una speranza che non delude. Accogliamo allora l'invito di Sant'Agostino. Se i tempi sono cattivi viviamo bene ed essi diventeranno buoni. Credo sia questo il modo migliore fratelli e sorelle di iniziare questo cammino verso il santo natale. Proprio il modo migliore per imparare in questo tempo di avvento l'arte di sperare. Buona domenica e buon cammino di avvento a tutti.